Musica Benvenuti a scientificamente il Tg dello spazio e della scienza Scoperto un nuovo vulcano in Colombia E' stato individuato in Colombia un nuovo vulcano potenzialmente attivo Si trova in una zona in cui si riteneva che le manifestazioni vulcaniche fossero inesistenti A fare la scoperta un gruppo di ricercatori dell'Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali del CNR di Milano E del Servizio Geologico Colombiano Durante una campagna finalizzata all'esplorazione geologica e geotermica delle Ande Colombiane Il nuovo vulcano è stato ribattezzato e scondito Pare che la sua ultima attività risalga a circa 30.000 anni fa Questa scoperta modifica in modo sostanziale le teorie sulla distribuzione del vulcanismo recente Nella cordigliera centrale delle Ande Setentrionali Indicando che la risalita dei magmi nella crosta e il controllo esercitato dalle strutture tettoniche Sono processi più pervasivi di quanto ritenuto in passato SAM alla ricerca dello xeno su Marte Lo strumento SAM di Curiosity è al lavoro per individuare tracce di xeno nell'atmosfera marziana Lo xeno è un gas nobile, pesante e come i suoi simili Ha la caratteristica di non reagire con altre sostanze nell'aria e nel suolo E proprio per questo costituisce un eccellente tracciatore della storia climatica Lo xeno su Marte c'è, ma è presente in percentuale molto bassa Per questo la sfida di Curiosity è molto ardua Se riuscirà nella sua analisi, SAM, che è attrezzato per realizzare spettrometria di massa e gas cromatografia e spettrometria laser potrà fornire importanti dati sulla storia del pianeta rosso ricostruendo l'evoluzione climatica del pianeta Mercurio è il pianeta nero Le comete potrebbero aver dato una spolverata al carbonio su Mercurio rendendolo un pianeta dalla superficie scura e opaca L'ipotesi è di Megan Brooke, sia la ricercatrice al californiano Lawrence Livermore National Laboratory ed è stata pubblicata su Nature Geoscience Il colore di Mercurio da anni fa interrogare gli scienziati che lo osservano grazie alla missione Messenger della NASA È un colore scuro, meno riflettente della Luna L'idea è che la polvere di carbonio possa essere calata su Mercurio trasportata da micrometeoriti derivanti dalle comete conferendo così queste caratteristiche così particolari al pianeta I topi si accorgono se i loro simili soffrono Quando i topi provano dolore cambia la loro espressione facciale in maniera simile a quello che succede agli umani Gli scienziati si sono chiesti se queste espressioni di sofferenza si traducessero in una comunicazione di dolore diretta agli altri topi o se si trattasse solo di reazioni fisiche slegate da altri significati La scoperta riportata da Science è che i roditori prestano attenzione alle espressioni emotive dei loro compagni rilevando la loro sofferenza Questa nuova conoscenza apre nuove prospettive riguarda la sperimentazione animale L'appuntamento con le notizie finisce qui Vi salutiamo e vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento Nasce a Colleferro vicino Roma il piccolo grande lanciatore dal cuore italiano che porta i satelliti nello spazio e unisce scienza, tecnologia e industria in un'unica comunità A Vega il vettore europeo di generazione avanzata è stata dedicata a un'intera giornata nella sede dell'Agenzia Spaziale Italiana Ricercatori, tecnici, dirigenti appartenenti al mondo dell'università alle agenzie spaziali italiana e europea e all'ELV, società partecipata da ASI e AVIO si sono riuniti come una vera community per ripercorrere il cammino di Vega e guardare al suo futuro Tutti insieme perché è dalla loro collaborazione che è nato un successo Perché per l'Italia è importante avere un suo lanciatore? Perché lo spazio non occorre solo sognarlo ma occorre raggiungerlo Lo spazio vuol dire ricchezza, vuol dire satelliti, vuol dire servizi ma occorre anche arrivarci è come poter fare un viaggio intorno al mondo senza avere un'automobile o un aereo non ci si può arrivare nei tempi utili e quindi l'Italia può vantarsi oggi di avere una filiera completa dal lanciatore al satellite alla ricezione dei dati e all'analisi degli stessi per farne dei servizi non tutti i paesi hanno questa possibilità e quindi il fatto che noi con 50 anni di storia alle spalle con l'Agenzia Spaziale, con un investimento continuo del governo e come membri dell'Agenzia Spaziale Europea possiamo dire con orgoglio che abbiamo un'intera filiera che sta evolvendo perché queste cose non sono mai stazionarie ci sono nuove idee, piccoli satelliti il lanciatore Vega che si evolve insomma abbiamo una prospettiva negli anni molto interessante nel settore dello spazio è di pochi giorni fa la proposta di Google di utilizzare il lanciatore Vega per portare in orbita i primi skybox piccoli satelliti destinati a formare una costellazione voluta da Mountain View per la diffusione di internet in tutto il mondo ma non c'è solo Google ci sono anche altre richieste per un passaggio nell'orbita bassa su cui Vega posiziona il suo carico di piccoli satelliti dopo la firma per 10 lanci del valore di 260 milioni di euro ne sono attese di analogo al ritmo di un contratto ogni 3-4 anni per ora i lanci calendarizzati sono 3 all'anno ma si può arrivare anche a 4 ottenendo così un ampio superamento della soglia di separazione tra convenienze economiche e criticità fissata a 2,5 lanci ogni anno e questo con la taglia attuale di Vega nuove strade si possono aprire con l'evoluzione Vega-C e con il motore P120 quando il ritmo di produzione si attesterà a 36 all'anno e potrebbe darsi che il carico del futuro sarà costituito anche da satelliti più grandi come quelli destinati a Cosmos Skyman o Sentinel Vega attualmente fa parte del segmento di lanciatori di piccola taglia i suoi primi 4 lanci sono stati un successo ma quali sono le caratteristiche principali di Vega? Beh sicuramente è un lanciatore a solido quindi ha propellenti solidi e quindi da questo punto di vista non è uguale agli altri lanciatori della famiglia europea ma da questo punto di vista è anche particolarmente flessibile all'utilizzo e quindi all'uso proprio alla rapidità di messa in campo quindi di rispondere a un mercato commerciale dal punto di vista tecnico è sicuramente uno dei lanciatori più avanzati dal punto di vista tecnologico questo significa che l'Italia ha raggiunto l'apice delle capacità tecnologiche mondiali attraverso la realizzazione di questo lanciatore e il fatto che ci siano stati quattro voli tutti quanti di successo è una storia unica è un evento unico nella storia delle attività spaziali soprattutto europee Vega posiziona i piccoli satelliti in un'orbita bassa da cui i loro occhi possono puntare la Terra per un'osservazione completa principalmente di cosa si occupano i satelliti che vengono inseriti nell'orbita bassa cioè qual è il vantaggio di quest'orbita? ma essenzialmente sono satelliti di osservazione della Terra quindi cominciano a esserci oltre ai satelliti scientifici che osservano quello che succede sulla Terra con diversi strumenti cominciano ad esserci anche servizi servizi al cittadino dall'osservazione della Terra quindi l'esempio del contratto firmato con Google sono dei satelliti di osservazione nel caso di Vega l'interazione tra agenzie e industria e università ha funzionato questa storia di successo auspicano tutti gli attori coinvolti è un esempio per tutti i progetti a venire è un orgoglio del paese e qualche volta fa un po' rabbia sentire che si parla di tante cose che non vanno in questo paese ma non si parla di queste eccellenze che sono uniche che sono state realizzate con grandi sforzi con grande capacità da parte di tecnici, di docenti ed anche di grandi sforzi finanziari che il paese ha dovuto realizzare quindi c'è molto da lavorare ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti